Manu, in casa editrice, benvenuto a Casa La Terza e innanzitutto come stai? Bene, grazie, finché c'è la salute. Un tempo lo si diceva in modo retorico, formale, adesso è diventato molto sostanziale questa affermazione. Eh sì, assolutamente. Stamattina ho letto un tuo articolo bello, interessante, anche un po' inquietante su Repubblica. La tua vita di giornalista a Giramondo si svolge anche in questo, il tuo lavoro si svolge anche in questi giorni da casa in parte. Sì, sì, cerco nonostante l'immobilità forzata che per me è in un certo senso oserei dire ancora più sconvolgente che per tutti voi, nel senso che io di mestiere viaggiavo una volta al mese ero su qualche volo intercontinentale. Il mio ritmo di vita era scandito da viaggi molto molto lunghi, raramente meno di 7 ore di volo, a volte 12, 13, 14, a seconda se stavo andando in Asia o in Europa e a cadenza in media oserei dire mensile. Quindi il passaggio da quella vita a quella che sto facendo adesso è un cambiamento notevole, però cerco, come nell'articolo che hai citato di oggi in cui racconto come le imprese in Cina e in America stanno già pianificando la fase 2, cerco di mantenere questo sguardo globale, anche se adesso è fatto di letture, ovviamente di informazioni che arrivano online, però ho una rubrica sul sito di Repubblica, quindi nella versione digitale che si chiama Outlook, che è una specie di sintesi quotidiana dell'economia globale e quindi in particolare America e Cina, le due superpotenze, cerco in questo modo di dare agli italiani una visione di quello che sta accadendo nel resto del mondo. Bene, noi questo tuo peregrinare continuo lo utilizzeremo, lo capitalizzeremo in questi 40 minuti di chiacchierata perché faremo insieme un viaggio virtuale, partendo dal tuo ultimo libro che si chiama L'Oceano di Mezzo, però prima ti volevo fare una domanda proprio come dire, di quelle molto televisive, di atmosfera, noi abbiamo visto prima, tu sei a New York, vivi a New York da molti anni, abbiamo visto prima le immagini di Fifth Avenue vuota e poi negli ultimi giorni abbiamo visto un'immagine terribile sui giornali italiani e anche sul tuo Repubblica, c'è l'immagine di Heartland, delle fosse comuni, nel libro parli dei 65 mila circa senza tetto di New York, che ci hanno restituito un'immagine anche di una città di fortissime diseguaglianze, l'atmosfera in questo momento della città, quelle volte in cui uscirai immagino anche tu per procurarti da mangiare, per fare alcune cose essenziali, che atmosfera percepisci? Qui a Roma e ancora più a Milano, altre città dove hai vissuto, c'è quasi totale lockdown, quindi l'atmosfera è surreale, a New York c'è ancora qualcosa di aperto, come funziona? Per esempio le librerie che ricominciano ad aprire qui in Italia a Spizziche e Bocconi, lì sono aperte o sono chiuse? Dunque, mi hai fatto tante domande e cerco di non dimenticarne nessuna, semmai me le ricorderai tu. Intanto devo ricordarvi che noi siamo sotto un regime diverso di regole, parlo di New York perché la California è già un'altra cosa, abbiamo anche noi il nostro federalismo e quindi ogni governatore di ogni Stato degli Stati Uniti ha stabilito delle regole diverse. A New York io esco tutti i giorni e quando mi pare vado dove mi pare, non abbiamo nessuna restrizione, non dobbiamo fare l'autocertificazione, all'esterno la nostra libertà di movimento è rimasta intatta, tant'è vero che io ogni giorno vado a correre per un'ora a Central Park, i giardini, i parchi pubblici non sono stati chiusi, a differenza per esempio di quello che ha fatto la California, però diciamo che nel rispetto delle regole dobbiamo tenere delle distanze, questo sì, le distanze di sicurezza sanitaria, circa due metri, in un parco grande come Central Park di solito non è un problema, anche se quando c'è una bella giornata di sole, nelle ore più calde l'affollamento è notevole. Comunque, quindi detto questo, New York è una città spettrale, non ha niente a che vedere con la New York a cui eravamo abituati, perché la maggior parte delle attività sono chiuse, la maggior parte dei negozi sono chiusi, non sono aperte le librerie, non sono state inserite tra gli esercizi pubblici di prima necessità, quindi sono aperti negozi alimentari, supermercati, farmacie e poco altro, però continuano a funzionare i trasporti pubblici, la metropolitana purtroppo tra l'altro con un bilancio di vittime enorme, l'ultima volta che ho guardato i dati 41 auto ferrotranvieri del metro di New York sono morti di coronavirus, è una città che è molto grande, è la più grande città d'America con 9 milioni di abitanti, con una densità di popolazione, viviamo gli uni addosso agli altri e quindi questo ne ha fatto quasi automaticamente il principale focolaio, nessun'altra parte d'America è colpita, solo la città di New York ha 10 mila morti di coronavirus, ovviamente questo genere di tragedia accentua le diseguaglianze sociali e chi sta peggio sono i più poveri, noi abbiamo dei tassi di mortalità molto più alti nei quartieri popolari, New York è divisa in quattro grandi aree, Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx, poi c'è anche Staten Island un po' più piccola come popolazione la quinta, ma comunque la concentrazione di morti è proporzionalmente molto più elevata nel Bronx e a Queens, a Brooklyn, nelle zone popolari per delle ragioni ovvie e molto crudeli, da una parte i poveri hanno appartamenti più piccoli, vivono più concentrati, quindi il contagio è più facile, è più difficile tenere le distanze sociali quando ci sono delle famiglie numerose in appartamenti minuscoli, fanno anche dei lavori che devono continuare a fare, la manodopera nelle mansioni più umili, quelle che continuano a far funzionare la città di New York, sono i poveri che vanno tutti i giorni in metro, vanno al lavoro, vanno a tenere aperti i supermercati, sono infermieri negli ospedali, tutti i mestieri che continuano a funzionare e per lo più sono centi medio-bassi e quindi sono più esposti perché continuano a essere in giro, fattorini delle consegne anche ovviamente. Poi ci sono i senza tetto, ci sono stati già dei focolai di infezione molto gravi negli shelter, nei recovery, negli asili per senza tetto, infatti una parte di senza tetto cominciano a essere spostati in alberghi che sono stati requisiti ad hoc, dove dovrebbe essere un po' più facile tenere delle distanze, gli shelter tradizionali, i recovery tradizionali per senza tetto ovviamente sono dei dormitori, quindi per il contagio sono pericolosissimi e i ricchi se ne sono andati, quello è un altro fenomeno che accentua queste diseguaglianze che chi ha la seconda casa, agli Hamptons tipicamente, le località sul mare a nord di Long Island o Martha's Vineyard o lungo la valle del fiume Hudson, i ricchi come nella Decameron di Boccaccio, se ne vanno nelle case di villeggiatura, lontano dalla città che è il luogo del contagio. Ci torneremo poi su questo tema, accennavo prima al fatto che partiamo da un libro, partiamo da un libro che abbiamo pubblicato, un tuo libro qualche mese fa, che si chiama L'Oceano dei Mezzo, lo faccio vedere anche se poi la scritta si vede al contrario, ma insomma la copertina è molto suggestiva perché è illustrato, è un altro, gli acquerelli bellissimi di Nicola Magrini. In questo libro tu racconti tanti luoghi, tante città, piccole e grandi, non solo che hai conosciuto, ma in cui hai vissuto, hai vissuto per anni. Ora io ho tra i miei amici alcune persone che si sono spostate per un periodo della propria vita, ma normalmente sono cresciute, quasi tutte cresciute e vissute nella stessa città in cui sono nate, poi le hanno viste da turisti o per lavoro, ma tu invece hai vissuto a Bruxelles per molti anni, da tua infanzia fino alla scuola, poi sei andato a vivere a Milano, poi ti sei trasferito a Parigi come primo lavoro di corrispondente del Sole, poi New York, San Francisco, Pechino e mi fermo qui perché poi in realtà nel libro ci sono tante altre città, ne cito solo una piccola città a Camogli che era una città del cuore di elezione perché la sua famiglia veniva da lì e perché hai una casa ancora lì. In questa tua condizione come scrivi di nomade professionale perché la tua vita in queste varie città è determinata in parte al fatto che tuo papà lavorava alla comunità europea, ma poi per lavoro, però dici anche che intanto credo che questo mi sembra un po' il tuo modo di pensare alle cose, che è sempre un po' spiazzante ed è secondo me una delle tue qualità, chi legge i tuoi articoli non è sempre sicuro di come andrà a finire e spesso contraddici una certa idea che io potrei avere di Federico Rampini, metti in circolo anche idee, le vedremo spiazzanti, in questa tua condizione di nomade professionale, però dici anche che hai una nostalgia in qualche modo dei luoghi, delle radici locali e questo è uno dei temi della condizione spaisante dell'Occidente che ha vissuto una globalizzazione intensa, molto forte dovuta anche ai nuovi media che tu hai raccontato tante volte, ma anche con risorgere della sovranità, quindi è un tema che tu vivi anche personalmente o sbaglio? Certo, ed è uno dei fili conduttori di questo libro, dell'Oceano di Mezzo, questa vita effettivamente un po' particolare anche perché ho cominciato a essere un nomade globale prima che la parola globalizzazione entrasse nel lessico di tutti, sono nato nel 1956 a Genova, a due anni ero a Bruxelles e a quell'epoca non si viaggiava così tanto, la diaspora, c'era già tanta immigrazione, nel Belgio dove io andai a vivere da bambino, quasi appena nato, l'immigrazione italiana aveva già una storia antica dietro le spalle, c'era stata proprio nel 1956, l'anno della mia nascita, la tragedia di Marsinelle dove erano morti tanti minatori italiani nelle miniere di carbone della Vallonia, quindi l'immigrazione italiana è ben più antica, però la diaspora degli espatriati, il viaggiare continuamente era ancora un fatto molto minoritario e ha segnato tutta la mia vita, che è stata di conseguenza anche una vita di continua ricerca delle radici, perché da un lato essere un nomade globale come me è stato un privilegio, riconosco il privilegio, mi ha dato accesso a conoscenze, a una visione del mondo molto speciale, dall'altro ci sono dei costi umani, i più ovvi sono la distanza dai propri affetti, ma anche la mancanza di radici, il fatto di essere sempre un outsider, di trovarsi in delle situazioni in cui gli altri si conoscono tra di loro, hanno sviluppato delle reti di solidarietà, di amicizia, di complicità e tu sei quello venuto da fuori e quindi devi sempre risalire la china, hai degli handicap da superare, quindi c'è questa ricerca delle radici che è quella paradossalmente per arrivare a uno dei temi che hai affacciato tu, che mi rende rispetto a tanti progressisti politically correct, mi rende più attento al tema della nazione, proprio perché io sono stato un apolide, sono stato scaraventato da una parte all'altra del mondo, quasi mai nella mia nazione e ogni volta mi dovevo conquistare delle radici, un'identità, forse per questo mi sento facilmente a casa mia a New York dove una bella fetta della popolazione, qui sono degli sradicati, sono dei migranti, sono degli espatriati come me, ma tutto questo però mi rende meno, mi ha immunizzato da quella forma di snobismo dei globalisti dell'ultima ora che considerano che chi è attaccato, è affezionato a una nazione, in fondo è una persona di serie B, è un provinciale, uno che non ha capito dove va il mondo, io invece proprio perché non ero mai al mio posto, ero sempre nel posto sbagliato, capivo tutto il valore del tema dell'identità nazionale. Questo che dici lo racconti particolarmente nel capitolo proprio su Bruxelles, perché dici che frequentando la scuola europea c'erano ragazzi di vari paesi, tra cui ad esempio paesi di identità molto forti come la Francia, la Germania e tu sentivi in qualche modo la positività di questa identità, giovedì prossimo in una delle dirette che facciamo alle 12 su Instagram, Maurizio Viroli che è uno storico delle idee politiche parlerà proprio di questo, di come ci possa essere un patriottismo, un senso di identità nazionale che non è necessariamente guerra fondaio, non si basa l'amore per la patria sulla denigrazione della patria altrui, ma d'altra parte mi viene in mente, tu sei in America, l'America è un paese che consente doppie, triple o consente di essere proud to be American e al tempo stesso di essere italiano, sbaglio, a New York per esempio. Bene, io sono un esempio, ho preso la cittadinanza americana di recente quando era presidente Barack Obama, ma nessuno mi chiede di rinunciare a quella italiana, anzi me la tengo stretta la mia cittadinanza italiana, quindi sono un caso tipico di doppia cittadinanza che è legale, è consentito e non solo, ma è una percentuale importante della popolazione americana è così, tant'è vero che si è inventato un neologismo, gli hyphenated Americans, vuol dire americani con il trattino, hyphen sarebbe il trattino di congiunzione, per cui puoi essere Italian American, puoi essere Chinese American, Mexican American e così via, è una delle ricchezze di questa nazione, senza alcun dubbio. Io sono arrivato, mi sono trasferito a vivere qui negli Stati Uniti vent'anni fa, prima in California, quindi c'è tutto il capitolo San Francisco della mia vita, poi ci sono stati cinque anni in Cina, ma avevo sempre conservato la residenza qui e quindi tutta la famiglia, mia moglie, i figli, siamo tutti doppi cittadini, italiano-americani. Quello che ci racconti dimostra il fatto che quindi uno può mantenere l'orgoglio di essere italiano pur apprezzando diverse culture, diverse civiltà e il lavoro che tu fai, il lavoro che hai fatto in questi anni di farci conoscere questi vari luoghi attraverso i tuoi articoli, i reportaggi, i libri serve a questo, quindi non necessariamente la conoscenza degli altri porta al fatto che, anzi la conoscenza degli altri, al contrario, aiuta a rapprezzare quella mania gli altri mantenendo un orgoglio di identità specifica e nazionale. Quindi la conoscenza è molto importante da questo punto di vista, la conoscenza globale. Forse la pandemia tra le mille problemi porta a questo vantaggio, che ogni giorno in televisione siamo esposti a quello che succede nel resto del mondo, almeno così succede in Italia, non so se neanche in America si racconta l'Italia, si racconta l'Europa, si racconta la Cina con grande spazio nei telegiornali, nella televisione. Sì, questo sta accadendo anche qua ed è una delle pochissime novità positive portate dalla pandemia. Tieni conto che la situazione di partenza è un'informazione, era, sto parlando prima della epidemia, un'informazione americana molto, molto autoreferenziale, fino ai limiti del provincialismo. Se tu normalmente prima della pandemia accendevi una televisione qui in America per un notiziario, si parla quasi soltanto dell'America. Anche la stampa, con delle eccezioni, il New York Times e il Wall Street Journal sono ancora dei giornali che ti danno un'apertura sul mondo, ma normalmente gli americani hanno questa visione estremamente autoreferenziale che è diventata a lungo andare una loro debolezza grave, molto grave, perché hanno una classe dirigente provinciale che ha smesso di conoscere il resto del mondo in maniera adeguata e questo è anche una delle spiegazioni di certi loro ritardi e di un declino complessivo dell'America. Non hanno quel riflesso che abbiamo avuto noi, in questo noi europei siamo migliori perché siamo tante nazioni più piccole, ravvicinate, incollate le une alle altre. Una delle cose che racconto anche nel libro, ma per un europeo è normale quando le cose non funzionano a casa sua, ficcare il naso nella casa del vicino. Da noi, se non funziona la metropolitana di Roma, la prima cosa che fa un romano è guardare come funziona il metro di Parigi e di Londra, è automatico, è un riflesso che ci viene, a un americano non viene questo, la metropolitana di New York è uno dei personaggi del mio libro, è il metro di New York. Adesso no, ma lo frequentavo tanto, fa schifo, è un metro indecente, è una metropolitana da terzo mondo. Eppure per anni e anni non ho mai sentito dei dirigenti locali dire ma come mai non riusciamo a far funzionare la nostra metropolitana come quella di Tokyo. Non lo sanno come funziona quella di Tokyo, non ci sono probabilmente mai andati e non gliene interessa nulla perché sono talmente impregnati della convinzione di essere i primi della classe, ma questo in tanti campi, anche ovviamente in questo momento la sanità è uno… comunque l'ho fatta lunga ma rispondo alla tua domanda, la pandemia fa sì che finalmente si sente parlare molto anche alla televisione americana di quello che accade in Italia, in Cina, in Germania e con ogni tanto, devo dire non abbastanza spesso, ma ogni tanto qualche lezione di umiltà quando si guardano i dati su quello come la Corea del Sud o la Germania riescono a fare molti più test diagnostici dell'America, spero che un po' di americani stiano aprendo gli occhi sul fatto che no, non sono i primi della classe. Questa è esattamente la domanda che ti volevo fare, nella parte su New York, a cui poi arriviamo anche peraltro, nella metropolitana tu dici l'incapacità di modernizzare le infrastrutture pubbliche, viene guardata da destra e da sinistra, da destra l'ideologia neoliberista scrivi da 40 anni ha privilegiato il business privato e ha disprezzato i servizi pubblici in tutti gli Stati Uniti. Allora, tu come sai questa è una polemica che in parte riguarda anche l'Italia, in Lombardia si dice è stato dato troppo spazio al privato e per esempio la sanità pubblica ha smantellato la sanità di base territoriale, ha privilegiato i grandi ospedali, ma l'assistenza domiciliare, la sanità di base… ma in America ovviamente dove non c'è un servizio sanitario nazionale credo comparabile a quello non solo italiano ma anche tedesco, la domanda è c'è una consapevolezza di questo, c'è un dibattito pubblico su questo, se ne parla di questo tema, di come l'America affronta in maniera più sguarnita rispetto ad altri paesi come la Germania, per non dire l'Italia, hai l'impressione che c'è un nucleo di discussione che potrebbe cambiare le cose, Medicare, tutta la discussione quando Trump è arrivata, ha provato a smantellare, credo non ci sia riuscito del tutto, ma insomma le poche cose… Sulle sigle bisogna essere molto cauti perché è una giungla il sistema americano, una delle ragioni per cui è così difficile parlare della sanità americana agli italiani è che voi avete un sistema sanitario nazionale, anche poi con delle specificità regionali, tu hai ricordato la Lombardia, noi non abbiamo un sistema sanitario, ne abbiamo 100, è una giungla di sistemi per lo più privati, ma non solo privati, abbiamo anche la sanità pubblica in America, il Medicare è sanità pubblica per gli anziani, Medicaid è la sanità pubblica per i poveri sotto la soglia della povertà, Obamacare invece è il nome che si ha la riforma sanitaria di Obama che ha aumentato la copertura, abbiamo tanti sistemi sanitari quanti sono gli stati, perché anche qui il federalismo conta, pesa, gli stati hanno potestà di legiferare sulle regole della sanità, quindi a New York non ci sono le stesse regole che in Florida o in Texas. Qual è quella che Trump ha cercato di… Obamacare, lui ha cercato di smantellare, ma non ci è riuscito, la riforma sanitaria di Obama che ha introdotto alcuni miglioramenti, ma non ha, per esempio, ha consentito a una ventina di milioni di americani di assicurarsi, prima non erano assicurati, ha impedito alcuni degli abusi più atroci, come prima di Obamacare le compagnie assicurative private potevano dire a te non ti assicuro perché sei già stato malato, io voglio assicurare solo i sani, questo era un diritto delle compagnie assicurative, Obama gliel'ha tolto questo diritto abominevole, quindi dei miglioramenti ci sono stati, però rimane un impianto prevalentemente privatistico, con le regole che quindi variano a seconda di qual è la tua assicurazione e quale polizza hai comprato dalla tua assicurazione, è un sistema molto complicato anche perché non si presta a semplificare ricchi poveri, non è una sanità solo per ricchi, non è vero questo, se tu sei un operaio metalmeccanico della General Motors hai un'ottima copertura sanitaria in America, perché sei dipendente di una grande azienda, hai un contratto collettivo di lavoro che è stato negoziato da un sindacato potente, nel tuo contratto di lavoro è inclusa una polizza assicurativa con i fiocchi che ti dà delle ottime prestazioni sanitarie, viceversa puoi anche essere parte di un ceto medio alto, ma un libero professionista ti devi comprare tu l'assicurazione e puoi comprarla anche piuttosto scadente, quindi non è così facile descrivere il sistema americano, il dibattito se c'è un dibattito, guarda per esempio c'è stato un dibattito molto forte tra i candidati democratici per la nomination, adesso si è chiusa quella gara lì, abbiamo un solo candidato che è Joe Biden, ricordo però per dirti come il dibattito non è semplice, uno scambio di battute nell'ultimo duello televisivo tra Joe Biden e Bernie Sanders, Bernie Sanders vorrebbe in America un sistema all'italiana, sistema sanitario nazionale unico, pubblico e sostanzialmente gratuito, semigratuito. Joe Biden è per una riforma molto più graduale, nel dibattito televisivo quando Sanders è tornato alla carica e proprio a proposito del coronavirus ha detto ecco la prova che abbiamo bisogno di una sanità pubblica, di un sistema sanitario nazionale, Joe Biden gli ha detto è quello che hanno in Italia e non ha funzionato. Anche in America non è così facile dire che i nostri ritardi che sono gravissimi nell'affrontare questa pandemia sono tutti legati ai difetti della sanità privata, perché la sanità pubblica che pure esiste, a New York abbiamo tanti ospedali pubblici e come ricordavo col Medicare, col Medicaid un pezzo di sanità e sottogestione pubblica, la sanità pubblica è arrivata altrettanto impreparata a questa sfida. Quindi il dibattito c'è ma non è così facile capire se andrà a favore degli uni o degli altri, perché abbiamo tanta inefficienza anche nel pubblico qui in America. Ci chiede Danà Cecchi, una delle persone che sta seguendo, chiede se una persona cade a terra malata senza assicurazione a New York, che succede? Dipende, dipende da quale ambulanza lo raccoglie o la raccoglie e in quale pronto soccorso la portano. normalmente di fronte a un'emergenza il pronto soccorso ti deve curare, di solito non è vera, la leggenda secondo cui prima ti chiedono se puoi pagare, poi ti curano, non corrisponde al vero, di solito se è un'emergenza vera ti devono salvare la vita, punto e basta. Poi però se hai avuto la sventura di essere portato in un pronto soccorso privato il conto arriva e se non lo puoi pagare cominciano una serie di problemi. Se sei veramente povero in realtà dovrebbero curarti gratis con il Medicaid, se hai un reddito al di sotto della soglia di povertà che è 22 mila dollari l'anno, se sei anche un po' sopra ti arriverà il conto. Tutte le sorprese sono possibili appunto perché abbiamo un ventaglio di tariffari a seconda se sei finito in una struttura pubblica, in una struttura privata. È una giungla e indubbiamente i costi possono salire a dei livelli pazzeschi. Bene, parlavamo di una persona che cade per strada. A proposito di cadere, passiamo invece alla corsa. Cioè hai detto prima che Central Park è un luogo dove corri. Una parte molto bella del libro, quando parli di New York, è dedicata appunto al parco, a Central Park. Mi dicevi l'altro giorno che quando corri e lo scrivi, senti audiolibri, sentivi, mi fa piacere ricordarlo, anche gli audio delle lezioni di storia di Alessandro Barbero, che è stato anche ospite ai nostri Casi della Terza, è vero? Sì, è verissimo, confermo. Ho sempre avuto, devo dire, da molti anni un'ammirazione per Barbero, che è un grande storico, ma è anche un grande divulgatore, un grande narratore. Adesso di recente mi sono scaricato sul mio piccolo iPod Nano, che mi accompagna nella corsa il ciclo delle conferenze che Barbero ha fatto per voi, per la Terza, all'Auditorium di Roma, credo. Stavo ascoltando quella su Caporetto, che è fantastica, anche se credo, è una pagina fantastica, è drammatica, è una pagina di storia molto tragica, ma raccontata benissimo da Barbero. Credo che se la rifacesse oggi parlerebbe molto di più del bilancio di vittime della Spagnola, perché si capisce, qui e là ogni tanto appare l'influenza spagnola che uccise molto più della Prima Guerra Mondiale. In quella conferenza fa delle apparizioni brevi, credo che in una prossima versione il ruolo della Spagnola verrà sviluppato più ampiamente. Con Barbero, quando abbiamo fatto uno dei primi incontri di Casa la Terza, abbiamo parlato dell'idea della guerra, come sai Macron ha ripetuto più volte nel suo discorso, siamo in guerra, siamo in guerra. Barbero è prima di tutto uno storico militare, quindi era interessante raccontare come funziona l'emergenza, per esempio la catena di comando o la comunicazione, ma rimaniamo a Central Park. Io sono stato con la mia famiglia ospite di un amico comune che è Massimo Gaggi, che da molti anni è il corrispondente del Corriere della Sera a New York, a Natale, a Capodanno diciamo, nei giorni a cavallo tra le fine dell'anno e inizi di gennaio e siamo stati a Central Park, una bellissima giornata e a un certo punto, mentre eravamo fermi di fronte alla statua di un re polacco, re Iaghellone, è arrivato un signore di una certa età, piccolino, che ci ha detto volete che vi dica perché c'è questa statua qui? E ci ha dato un'amabile descrizione e ho chiesto, ma chi è lei? C'aveva una targhetta qui sul petto. Io sono uno dei 600 volontari della Conservancy, di Central Park e io con la mia ignoranza gli ho chiesto ma che cos'è? E mi ha spiegato che Central Park è entrato in una condizione ormai da molti anni di grande qualità che tu racconti nel libro, per esempio è un posto sicuro, è un posto che si può andare a correre anche a mezzanotte, dopo una stagione che invece era stato più problematica negli anni 70, perché un gruppo di persone facoltose, comunque di cittadini di New York, ha ottenuto di gestirlo direttamente. Io ho pensato, è una cosa difficilmente pensabile in Italia, che un privato ottenga una gestione di un parco pubblico, una città nella città, è una differenza anche questa tra pubblico e privato in America e qui e in Italia? Confermo che la Conservancy che ha la gestione di Central Park è una struttura privata, anche se è una non profit, quindi privata ma non a scopo di lucro, non può fare profitto sulla gestione del parco. È una delle forze dell'America questa, ricordiamoci che la stragrande maggioranza delle università di elite americane, grandi nomi come Harvard e Stanford, sono delle non profit private, sono enti privati non profit, esattamente come la Conservancy che gestisce Central Park e sono le migliori università del mondo. Quindi questa è una delle forze, cioè saper combinare l'efficienza del privato, dell'organizzazione di un'azienda privata, togliendo lo scopo del profitto. È una formula molto interessante, naturalmente si basa anche su una legislazione fiscale che consente donazioni detraibili e quindi c'è tutto un flusso di denaro che dai ricchi va verso tutte queste organizzazioni, questi enti non profit. Solo su una cosa ti devo correggere, se Central Park è diventato un luogo sicuro dove si può andare a correre quando fa buio e non ci sono più i crimini orrendi degli anni 70, degli anni 80, questo è un altro discorso, non c'entra la Conservancy perché la Conservancy non ha compiti, responsabilità e poteri di ordine pubblico, qui c'entra la polizia di New York ed è un altro discorso che piace poco ai miei amici politically correct perché questa storia della rinascita di New York come città sicura dopo un periodo in cui era una città veramente molto molto pericolosa è la storia di una sinistra di governo perché è stata governata per lo più, con delle eccezioni importanti come Bloomberg, ma per lo più da uomini di sinistra, una sinistra che ha capito che legge e ordine non sono dei temi di destra. A questo proposito è molto divertente un aneddoto, il libro è pieno di racconti anche della tua vita familiare, della tua vita con i figli, con Stefania, con tua moglie, con Costanza, con Jacopo, ce n'è uno molto divertente su questo tema legge e ordine, racconti che quando arrivi a San Francisco Jacopo che è un grande calciatore va a fare la sua prima partita e a un certo punto l'arbitro fischia non so che cose, lui protesta in maniera veemente e i suoi compagni stessi della squadra lo guardano strano, perché? Perché la autorità dell'arbitro della regola non si mette in discussione, quindi questa è l'altra faccia della forza del privato, un privato che però accetta le regole, una volta stabilite quelle sono le regole del gioco e si accettano o sbaglio? Sì, questo è l'impatto proprio più forte dal punto di vista culturale che noi abbiamo avuto 20 anni fa quando ci siamo trasferiti da Milano a San Francisco, quindi siamo sbarcati, sono cose che probabilmente nota anche un italiano che fa solo il turista in America, ma diciamo che quando vai a vivere in un paese, quando iscrivi i tuoi figli a scuola, quando devi pagare le tasse, quando devi fare un contratto di affitto, percepisci molto di più la cultura diffusa di quel paese e il tema del rispetto delle regole è molto forte, per noi italiani arrivati a mettere radici in California fu una delle cose più interessanti, detto questo poi naturalmente come in tutte le belle storie c'è sempre un risvolto negativo, poi alla fine non è che tutta l'America rispetti le regole come dovrebbe, in questo momento abbiamo alla Casa Bianca un Presidente che è un affarista che sul rispetto delle regole invece ha sempre dato un'interpretazione molto particolare, c'è un mondo del capitalismo americano, lo abbiamo visto per esempio nella crisi del 2008, che è stato un mondo di pirati, un mondo senza scrupoli, dove invece sulle regole hanno fatto carne di porco, quindi non voglio, il mio libro è sempre pieno di chiaroscuri, non descrivo mai un'America né meravigliosamente ideale e neanche un inferno, poi ci sono sempre le eccezioni di quelli che fanno i furbi anche qua e a volte sono eccezioni che sono arrivate molto molto in alto e la Casa Bianca oggi è un esempio. Anche qui però io non mi accontento mai degli stereotipi politically correct, ricordo sempre che Trump ha fatto soldi come palazzinaro quando New York era governata dai democratici, lui si diceva democratico, pagava, finanziava le campagne elettorali di democratici, è una delle ragioni per cui non mi convince che solo oggi si scopra la probabile evasione fiscale di Trump e che mi chiedo dove erano tutti i procuratori di New York che dovevano indagare sulle sue tasse quando lui era un palazzinaro qua, in questa città. Sì, a proposito delle regole una delle cose che tu dici molto interessanti è il disprezzo per le regole dei grandi operatori dei nuovi media, degli over the top, tu facesti all'inizio del tuo lavoro professionale, dei libri con noi che erano sulla New Economy, in cui sottolineavi il potere anche di liberazione che veniva dal West Coast, delle imprese che avevano un grande e forte senso di rompere vecchi schemi, gerarchie autoritarie, convenzioni, pregiudizie, liberavano una possibilità per tutti di comunicare e che è quella per cui noi oggi stiamo dialogando a tanta distanza. In questo libro maturi una riflessione che avevi già maturato in te i libri precedenti, che invece questo è diventato una forma di arroganza di essere al di sopra delle regole, di essere, come dire, di disprezzarle anche. Questo in parte era nella cultura del 68-69, la famosa canzone di Crosby, Still and Ash and Young che tu ricordi in Chicago, sui movimenti protesto, a un certo punto dice rules and regulations, who needs them? C'era questo, c'era Steve Jobs nel discorso famoso all'università e quindi anche questo è un chiaroscuro. Sì, sì, sì. Quello è uno dei pezzi del libro dove descrivo un'America di cui io rimango profondamente innamorato, sono rimasto molto legato a San Francisco, mia figlia vive da quelle parti a Santa Cruz, insegna all'università in California, adoro la California, però ho smesso da tempo di considerarla un paradiso terrestre, proprio perché la storia delle nuove tecnologie, dei padroni della rete è stata per me illuminante, questi che sono stati dei rivoluzionari da giovani, tutti quanti, da Bill Gates a Steve Jobs, sono poi diventati dei pirati del capitalismo monopolista più arrogante, sono i più grandi elusori fiscali del pianeta, l'idea che hanno del loro dovere nei confronti della comunità è molto particolare, possono essere generosi come filantropi e al tempo stesso spietati nel pagare pochissimo i propri operai nelle fabbriche cinesi di Apple o nei magazzini deposito di Amazon, c'è una protervia, una ferocia, un'avidità di accumulazione per cui hanno gettato la maschera, quelli che erano i figli dei fiori, eredi di quella, certamente c'è anche una continuità perversa tra una vena anarchica degli anni 60 americani della West Coast e quello che poi hanno edificato, che è un capitalismo con tutti i difetti del capitalismo antico, prima di tutto la tendenza alla concentrazione monopolistica, sono dei lobbisti fenomenali che hanno creato intere impalcature normative che proteggono i loro interessi, sì, questo è il volto peggiore della capitalismo. Già è una impalcatura culturale, in questi anni abbiamo vissuto un po' col mito della libertà della rete, la rete è libera e poi invece ci rendiamo conto che la rete è un far west dove dentro ci sono regolazioni e non regolazioni e alcuni che un tempo si chiamano Robert Barons che adesso sono invece i cosetti over the top. Io dobbiamo concludere, in realtà ci sarebbero mille stimoli dalle cose che hai detto e anche molte che ci vengono chieste e dal libro che è ricchissimo di stimoli. Io però vorrevo chiudere col Pechino, chiudere con Pechino ma per in realtà lanciare da lì la domanda sul futuro. Il capitolo del Pechino è molto ricco, anche quello è molto interessante, racconti la tua esperienza di vita in un quartiere tradizionale di Pechino e che cosa questo voleva dire, con una Pechino che in realtà in quegli anni si andava invece fortemente modernizzando anche attraverso, tu parli per esempio dei palazzi ma anche dell'abbigliamento, quella che tu chiami rimozione del passato, c'è un'opera in cui il capitalismo cinese è molto diverso per esempio da quello indiano. Allora la domanda che ti volevo fare è questa, noi pubblicheremo dopo Natale, dopo Natale, dopo le vacanze estive a settembre-ottobre un bel libro di Branko Milanovic che abbiamo deciso di chiamare Capitalismo contro capitalismo, lui sta aggiornando ovviamente a luce di quello che sta succedendo in cui confronta i due capitalismi, il capitalismo occidentale che lui chiama meritocratico, comunque quello liberale che convive con sistemi liberali democratici, è un capitalismo autoritario in cui la Cina è l'esponente più forte, che però in questi giorni ci si presenta con un'area nuova, in Italia arrivano i medici cinesi, la Cina sembra molto affabile e generosa con l'Occidente, tu hai riflettuto molto su questo modello di vita, non solo capitalismo appunto asiatico, Cindi è stato uno dei tuoi libri più fortunati, uno dei primi che ha raccontato questo, purtroppo in quel caso non pubblicato alla terza, ma insomma lo cito perché oggettivamente è stato un libro veramente anticipatore. Oggi quello che sta succedendo, come cambia, questa è l'ultima domanda che ti farei, come cambia dal tuo punto di vista la geografia dei poteri e cosa ci dobbiamo aspettare perché sono poteri molto diversi tra loro, noi occidentali? Io credo che una pandemia come una guerra mondiale ha sempre degli effetti di shock nella competizione tra sistemi, sistemi politici o addirittura tra sistemi valoriali, tra grandi civiltà, è un acceleratore del movimento della storia, quindi tutte le tendenze che erano già in atto e che racconto negli aspetti della vita quotidiana, più aneddotici anche nella mia immersione, 5 anni di vita a Pechino, quindi che racconto nell'oceano di mezzo, hanno preso un'accelerazione formidabile, cioè la Cina, nella storia dei rapporti tra Oriente e Occidente c'è sempre stato un alternarsi di emulazione, imitazione e competizione, cioè ci siamo copiati gli uni gli altri, nei momenti in cui uno era più avanti, l'altro cercava di imitare, copiare e adeguarsi, la Cina ci ha copiato molto a lungo, ha fatto quello che prima avevano fatto il Giappone e altri dragoni asiatici, cioè si è sottoposta anche a delle violenze enormi, facendo delle rotture drammatiche con la propria tradizione, per impadronirsi di una modernità che coincideva con l'Occidente. Adesso che pensa di padroneggiarla è anche convinta che sia cominciata la fase successiva, in cui è lei il modello superiore e questa pandemia sta diventando l'occasione per convincersene, Xi Jinping ormai è molto esplicito nel dire che il suo sistema di governo è più efficiente del nostro e la risposta alla pandemia secondo lui ne è la conferma più eclatante. In tutto questo ci sta anche un recupero delle tradizioni, perché la Cina che era passata attraverso un taglio abbastanza netto dal punto di vista anche proprio di quello che racconto nella mia vita a Pechino, l'urbanistica di Pechino, il tipo di capitalismo, di consumi, di mode, era tutto un copiare l'Occidente, adesso ci sono delle operazioni di recupero di Confucio per esempio, del pensiero confuciano, di recupero del buddismo, anche della religione buddista e tutto questo fa parte di una riaffermazione della civiltà cinese, ricordiamoci che è la più antica della storia umana, i cinesi considerano una continuità da 4500 anni a questa parte, quindi il doppio di noi greco-romani o giudeo-cristiani e quindi c'è quest'idea che loro si stanno riappropriando di un ruolo che fu il loro molto molto a lungo nella storia, il primato, la centralità, il centro dell'universo, Zhonguo, Cina è la terra di mezzo, tutto il resto è periferia. Bene Federico, io ti ringrazio molto perché ci hai aiutato a fare un viaggio, se non altro virtuale, attraverso il sottotitolo del libro è un viaggio lungo 24.539 miglia, non le abbiamo percorse tutte perché nel libro c'è molto di più, ci sono molti altri luoghi oltre quelli che abbiamo raccontato, ma insomma ne abbiamo visto un pezzettino e come sempre la tua capacità è quella di mettere insieme il racconto con un'analisi di quello che sta succedendo, poi io come purtroppo succede spesso, certo che sbagliando ci chiediamo tutti cosa succederà in futuro, in realtà nessuno lo sa, però l'analisi come si diceva un tempo è la base per quello che succeda e quello che decideremo che succeda, perché in parte dobbiamo continuare a sperare che se il modello cinese lo prenderemo noi, dipende anche da noi, cioè saranno anche noi a decidere se vogliamo un sistema più autoritario con meno incognite per esempio sul piano della sicurezza o no, al contrario. Ti ringrazio molto, spero che presto ci rivediamo anche di persone, intanto dico a chi ci ascolta che su Facebook ci vedremo giovedì 23 alla stessa ora con una persona che credo tu stimi e conosci come Alessandro Barbero che è un altro grande storico che è Luciano Canfora, che è un altro grande provocatore intellettuale e con lui ragioneremo molto di cosmopolitismo nella storia e oggi, Andrea Giardina in uno di questi in Casa La Terza ha detto questo è un virus cosmopolita, parleremo di come il cosmopolitismo sia un ideale, un'illusione, una realtà. Domani invece alle ore 12 su Instagram ci sarà Laura Pepe che è una giovane, bravissima storica che si occupa degli eroi greci, oggi diciamo che i medici sono eroi, è giusto, è sbagliato definirle così e poi venerdì con Rocco Pinto che è un bravissimo libraio torinese parleremo della questione di come gli spazi della cultura, non solo le librerie, soffrano in questo momento della crisi e delle incognite cosa fare per mantenere una dimensione culturale anche nei nuovi media, in parte come abbiamo fatto oggi utilizzando questo strumento anche per una riflessione che non è soltanto sull'istante, sull'immediato come spesso sentiamo fare sul numero ahimè dei contagi immediato, ma cercando di allargare lo sguardo. Grazie molto a Federico per tutto quello che ci hai detto e speriamo di di rivederci presto. A tutti, in bocca al lupo. Crepi come si dice. Ciao. Ciao. Grazie. 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 Grazie.